Partono in questo istante anche gli atleti della seconda batteria G2. Subito un allungo, a proporlo un atleta del progetto ciclismo Rodengo Sayano. Dietro Ronco, Otelli e Nuvolera tentano di recuperare. E il gruppo subito si allunga. Continua a guadagnare terreno Guerrini del Rodengo. Alle sue spalle un terzetto, composto da Ronco, Nuvolera e Otelli. Più indietro il resto del gruppo. E all'arrivo è Guerrini Giovanni del progetto ciclismo Rodengo Sayano da giudicarsi la vittoria. Davanti a Faita Marco della Ronco, Apostoli Lorenzo della Nuvolera, Gazzoli Michele della Otelli e Pastorelli Filippo della Monte Clarense. In the bidding bow! Bum, 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 bum. Allo